... Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. E apriamo con la cronaca. Un uomo di 44 anni, Maurizio Dottavio, è morto questa mattina a San Giovanni Teatino dopo un volo di una dozzina di metri. L'uomo originario di Guardia Grele, ma residente a Francavilla al Mare, che lavorava per una ditta di Pescara, stava lavorando alla bonifica dall'Eternit del tetto di un capannone di una ditta, quando a causa dell'improvviso cedimento di una lastra che copre la struttura è precipitato a terra. Subito soccorso dal 118 è stato trasportato all'ospedale di Pescara, dove però è morto poco dopo il ricovero. I carabinieri della Compagnia di Chieti, giunti sul posto per i rilievi, hanno sottoposto a sequestro la porzione di capannone in cui si è verificato l'incidente. La Procura della Repubblica di Chieti ha disposto l'autopsia. Quote in 15 società, 88 immobili, 7 autoveicoli, 385 titoli comunitari per aiuti all'agricoltura, oltre a svariati conti correnti, societari e personali, è il capitale valutato in 324 milioni che la DIA di Reggio Calabria ha confiscato a Vincenzo Oliveri, di 62 anni, socio del gruppo Oliveri, assieme al fratello Antonio, ex vicepresidente del Pescara, estraneo, quest'ultimo alla confisca di questa mattina. L'operazione è rilevante non solo per il notevole valore dei beni confiscati, ma per la ricostruzione dei passaggi fiscali e societari che hanno permesso di emettere la sentenza di confisca. Il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Caffiero Derao, si è espresso così in merito alla confisca da 324 milioni di euro all'imprenditore Vincenzo Oliveri, fratello di Antonio, ex vicepresidente del Pescara sotto la presidenza Sibilia, estraneo però ai provvedimenti di questa mattina. La DIA, su ordine del Tribunale di Prevenzione di Reggio Calabria, ha confiscato quote in 15 società, 88 immobili, alcuni anche in Abruzzo, oltre a 7 autoveicoli e 385 titoli comunitari, aiuti all'agricoltura per un milione e mezzo di euro all'anno. In più, confiscati svariati conti correnti societari e personali di Vincenzo Oliveri, un capitale valutato in totale in 324 milioni. L'imprenditore calabrese, 62 anni, ha interessi nel settore oleario ma anche nel comparto alberghiero, in quello immobiliare e dei servizi, sia in Calabria ed in particolare nella piana di Gioia Tauro in provincia di Catanzaro, sia in Abruzzo e in Toscana. Per l'accusa ci sarebbe una sproporzione tra i redditi dichiarati e percepiti di Oliveri, un patrimonio accumulato nel tempo, considerato frutto di attività imprenditoriale illecita. Il gruppo Oliveri, ha detto il capo del centro della DIA, colonnello Gaetano Sciglia, ha tentato di alterare i risultati economici denunciando, per esempio, una resa produttiva di 10 volte superiore alla qualità media dei loro terreni, ottenendo la possibilità di ricevere dalla GEA contributi per 1,6 milioni di euro all'anno. Ed ancora 85 milioni percepiti grazie alla 488, 15 milioni dell'ex AIMA, in tutto 100 milioni in contanti, un giro vorticoso di affari che però era sempre sfuggito ai rigori della legge grazie alle prescrizioni intervenute, ha detto Sciglia. Questo è solo il primo atto di una battaglia legale che si annuncia a lunga. Gli avvocati Giuseppe Fonte e Salvatore Staiano, legali di Vincenzo Oliveri, hanno sottolineato come nel caso di specie non si sia trattato di una misura di prevenzione patrimoniale applicata ad un soggetto ritenuto colluso con gli ambienti dell'Andrangheta, ma di una confisca applicata nei confronti di un soggetto cosiddetto genericamente pericoloso. E' atteso per la giornata di sabato il rientro a Pescara della Salma di Alessandro Angelucci, il docente 34enne morto lunedì in Turchia dopo essere precipitato accidentalmente in un dirupo. L'incidente è avvenuto durante una escursione nella zona di Kokali, 200 km a sud-est di Istanbul. Angelucci, docente universitario in un master all'Università d'Annunzio, era specializzato in storia bizantina ed era arrivato in Turchia venerdì scorso per guidare un gruppo di studenti nel progetto Erasmus+. Si trattava di un viaggio per lanciare un messaggio contro la dipendenza delle droghe che si sarebbe concluso il prossimo 5 giugno. Dall'autopsia effettuata ieri sera a Istanbul sarebbe emerso che il decesso è stato provocato da emorragie interne letali. La famiglia, distrutta dal dolore, ha ringraziato il lavoro del Consolato italiano in Turchia. Funzionari pubblici compiacenti per far vincere appalti di ricostruzione post-terremoto, in particolare le opere di messa in sicurezza degli edifici gravemente danneggiati il 6 aprile 2009, a ditte ritenute loro vicine che di volta in volta si spartivano i lavori. Con queste accuse la Procura della Repubblica dell'Aquila ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 indagati. La prima udienza preliminare per decidere se ci sarà o meno il processo è stata fissata al prossimo 15 giugno dal GUP Guendalina Buccella. L'inchiesta è coordinata dai pubblici ministeri Antonietta Picardi e Simonetta Ciccarelli ed è curata dai carabinieri del racgrupamento operativo speciale diretti dal Maggiore Giancarlo Sant'Agata. Cambiamo ora decisamente pagina. Secondo la Corte dei Conti il 73% delle leggi regionali licenziate nell'ultimo anno sarebbero anomale a causa della mancata copertura finanziaria. È quanto dichiara il Movimento 5 Stelle dopo aver preso visione del documento depositato il 16 maggio scorso dai giudici. La Corte dei Conti boccia il 73% delle leggi approvate dalla Regione Abruzzo. Nel documento depositato il 16 maggio scorso tra le motivazioni si legge svilimento dell'obbligo di copertura e artifici contabili. A dare la notizia il Movimento 5 Stelle che lancia un allarme. La Corte dei Conti boccia la Regione Abruzzo in quanto il 70% delle leggi approvate nel 2015 non hanno copertura finanziaria o non sono passati al vaglio del parere degli uffici finanziari o delle commissioni competenti. Possiamo dire promuove l'opposizione del Movimento 5 Stelle. Ad essere contestate per mancanza di copertura finanziaria ci sarebbero la ricapitalizzazione di Saga, società aeroportuale, l'acquisizione di quote di Abruzzo Engineering, società consortile per azioni della Regione Abruzzo e anche l'accensione di un mutuo da 100 milioni di euro per spese di gestione del disavanzo regionale. Questo cosa comporta? Comporta che abbiamo una regione con un disavanzo di 650-700 milioni di euro con riaccertamenti dei residui e un debito di 3 miliardi di euro quindi praticamente una regione fallita che non avendo quindi producendo norme senza la copertura finanziaria questo va ad incrementare ancora di più il grande debito, il grande disavanzo della Regione Abruzzo e quindi incidere sulle tasche dei contribuenti, dei cittadini della Regione Abruzzo che saranno chiamati a ripianare quello che non c'è. I consiglieri regionali di Forza Italia, Lorenzo Sospieri e Mauro Febbo contestano il piano sanitario regionale che mirerebbe a declassare ospedali delle aree interne e a chiudere alcuni pronto soccorso. Sospieri, si parla ancora di questo declassamento degli ospedali regionali di alcuni ospedali cosiddetti minori, parliamo del pescarese parliamo dei nosocomi di Penne e di Popoli. Purtroppo siamo costretti a riparlarne perché ieri la Regione ha siglato i documenti rinviati al Ministero della Salute con cui viene ufficializzata la riorganizzazione dei pronto soccorsi della rete dell'emergenza e urgenza. Accadrà che il pronto soccorso, nello specifico del pescarese, di Penne e Popoli seguiranno questa riorganizzazione. Popoli chiuso definitivamente dal 1 luglio, Penne declassato a pronto soccorso di ospedale svantaggiato che farà fino forse ai codici gialli e quando arriverà qualcuno purtroppo con una patologia molto seria stabilizzato e portato a Pescara. C'è un'attività contro le aree interne, questo è evidente, per accentrare tutto all'esplosione dei pronto soccorso dei capoluoghi di Chieti e Pescara, magari perché si vuole giustificare la volontà di fare per forza un nuovo ospedale. Faremo di tutto per denunciare questo problema, per informare la gente che siamo certi si ribellerà e farà rimangiare questa folle scelta. Problemi febbo anche ci potrebbero essere per gli ospedali della provincia di Chieti, parliamo di Guardia Grele, di Ortona e di Atessa. Cosa accadrà? Secondo voi cosa potrebbe accadere? Ieri hanno sottoscritto questo documento che ancora abbiamo ma che avremo, dove si certifica la chiusura di tre pronto soccorso, che è una cosa indegna per una provincia e per una regione nelle condizioni geografiche che abbiamo noi. Soprattutto è una cosa indegna in un momento in cui si sta parlando di realizzare un nuovo ospedale che non ha i piedi per camminare, dove non ci sono risorse economiche, dove ci sono mille altri problemi e non si danno servizi ai cittadini. Sguarnire territori interni come quello di Guardia Grele, come quello di Atessa, del pronto soccorso, lasciando tutto il territorio montano senza alcun punto di riferimento, chiudere definitivamente Ortona per continuare a ingolfare i Chieti, per giustificare l'ingiustificabile, credo che è veramente qualcosa che grida vendetta. L'ACA accede al concordato preventivo, in sei anni verranno pagati i creditori, inizia una nuova era targata di Baldassarre. È una cura importante quella che è stata fatta, che ci ha portato sacrifici da parte di tutti, da parte dell'azienda in primo luogo. Dovremmo farne ancora tanti altri, perché il percorso nei prossimi sei anni non è un percorso semplice, è un percorso che va seguito, il Tribunale ce l'ha delineato, ha approvato le nostre proposte e i creditori hanno accettato le nostre proposte e questo è un fatto importante. È vero, i sindacati ci hanno supportato, sindacati e le associazioni di categoria, non tutte, ma la maggior parte sì, abbiamo superato molte difficoltà, anche difficoltà importanti, avevamo oppositori di spessore e di rilievo. Questo ci ha dato forza e comunque sia siamo arrivati al primo traguardo, ma è solo il primo. Devo dire che lo studio che è stato fatto è stato un studio molto dettagliato, quindi speriamo che non ci sia scappato niente, ma se qualcosa è successo oggi abbiamo la forza per affrontarlo, come abbiamo affrontato importanti difficoltà come il dissesto idrogeologico, la problematica di Via Raiale e non da ultimo le problematiche di Francavilla. È ovvio che il deputatore di Pescara oggi ha un'importanza straordinaria, ma in questo momento non è il deputatore di Pescara il problema, perché quello che è successo in questo periodo non è collegabile alla gestione del deputatore di Pescara che è stato sempre e costantemente nei limiti, è collegato all'asta fluviale. In questo momento stanno partendo 18 cantieri, ne sono partiti altri circa 18, 15, 18 che sono già in esecuzione, tutti gli impianti che sono stati interessati a provvedimenti giudiziari sono in adeguamento, quindi credo che abbiamo fatto un'opera che forse in passato non si era mai fatta per la sua importanza e per il suo impatto e non dimentichiamo il DK15, che è l'opera, penso, strategica del 2015. Prosegue la protesta del centro-destra sull'accoglienza di immigrati presso strutture ricettive alberghiere della costa pescarese. Questa mattina è stato rivolto un nuovo appello al sindaco Marco Alessandrini. Il sindaco di Pescara risponde alle repliche dicendo che non è nelle sue competenze quelle di impedire l'arrivo di immigrati, ma è del Ministero. Il sindaco di Pescara è bravo a evitare i problemi, i problemi suoi, i problemi per lui. Ovviamente questo però è un problema per la città, avere dei migranti ospitati in un albergo in zone turistiche sicuramente crea problemi ai cittadini. I migranti potrebbero tranquillamente essere ospitati nelle caserme o nei conventi, in zone pubbliche libere, vuote, che invece oggi rimangono desolatamente vuote perché i migranti vengono ospitati in alberghi. Il sindaco Alessandrini professa una politica dell'accoglienza per pescare, parla di nuove politiche integrative dove alcuni immigrati saranno utilizzati anche per lavori di pubblica utilità. Pure noi professiamo il verbo dell'accoglienza, pure noi abbiamo un profondo rispetto nei confronti dei profughi, degli immigrati e noi chiediamo che il sindaco insieme a chi ha ruoli apicali di governo all'interno della regione Abruzzo si faccia carico di trovare strutture idonee ad ospitare i profughi specialmente in un periodo estivo. Sulla disponibilità dagli albergatori invece, perché la questione poi è di tutti coloro che hanno aderito. Ma lì ci sono dei bandi di gara, ci sono delle società, delle associazioni, delle cooperative che partecipano, che fanno anche degli accordi preventivi con le strutture ricettive, quindi sappiamo perfettamente che il sindaco non ha competenza diretta, però siccome è un fatto importante che riguarda la città di Pescara, il sindaco della città di Pescara deve farsi carico anche di cose che non siano di sua stretta competenza perché deve garantire e deve far sì che Pescara non possa avere nessun documento da nessun tipo di iniziativa. Il Corpo Forestale dello Stato ha illustrato nuove iniziative per combattere l'uso dei veleni nelle aree protette. Presentati grazie al protocollo di intesa tra Corpo Forestale dello Stato e tre parchi nazionali abruzzesi, la nuova unità cinofila antiveleno che opererà presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e il nuovo automezzo attrezzato per l'impiego dei nuclei cinofili dislocato presso il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. L'uso illegale del veleno è oggetto di attento monitoraggio da parte del Corpo Forestale, sia in chiave di prevenzione che repressiva. Dal 2011 a oggi i nuclei cinofili antiveleno del Corpo Forestale hanno effettuato 168 ispezioni, rinvenendo 132 esche e 36 carcasse avvelenate, 150 ispezioni preventive con 950 ore di lavoro effettuate. Grazie allo sviluppo dell'analisi criminale e del fenomeno, in funzione dei principi attivi rilevati in carcasse ed esche da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo e della localizzazione delle esche. Sono stati individuati nel 2015, per la prima volta in Abruzzo, due avvelenatori, uno in provincia di Teramo ed uno nel territorio del Parco Nazionale della Maiella. Certamente le esche avvelenate che a volte vengono appunto disperse nell'ambiente per varie finalità, per conflitti personali, per conflitti da ricercatori di tartufi, eccetera, sono delle vere e proprie bombe ecologiche, perché purtroppo chiaramente anche lupi, orsi e fauna selvatica appareggiata può imbattersi in queste esche. Il progetto appunto, grazie allo strumento operativo efficacissimo dei cani antiveleni, riesce sia all'individuazione delle esche, sia quindi a mettere a disposizione del decisore, del legislatore uno strumento importantissimo per il monitoraggio del fenomeno, e sia finalmente anche a individuare i responsabili, come è successo nel 2014, nel 2015, in provincia di Teramo e nel Parco della Maiella. Nel prossimo servizio parliamo dell'accordo tra la Regione e Telespazio per il monitoraggio del territorio dal rischio idrogeologico. L'alta tecnologia al servizio della sicurezza dei cittadini, con una collaborazione pubblico-privato. Questo è il senso dell'accordo stipulato oggi a Palazzo Silone, tra la Regione e Abruzzo e la società Telespazio S.P.A. In base a questo accordo, il Centro funzionale di protezione civile della Regione potrà avvalersi della strumentazione tecnologica all'avanguardia di Telespazio, rappresentata dalla rete regionale di monitoraggio, costituita dai radar di Pereto, in provincia dell'Aquila, di Tortoreto, in provincia di Teramo, e di Tufillo, in provincia di Chieti, migliorando così di molto in qualità tempistica l'elaborazione di scenari di previsione di rischio, rappresentati da alluvioni, frane, valanghe e incendi. Una collaborazione, annunciata il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, che ben presto si estenderà anche la partita decisiva del rischio sismico, a cominciare da territori particolarmente a rischio come quello di Sulmona. Per noi è particolare motivo di, lasciatemi dire, di soddisfazione, di orgoglio poter lavorare con la Regione per un servizio di così alta importanza. Per il resto siamo ancora più felici di poter eventualmente collaborare in futuro per poter intervenire su un progetto che possa anche aiutare alla prevenzione da qualsiasi tipo di rischio. Noi abbiamo necessità di sapere, di conoscere in anticipo per poter poi anche reagire adeguatamente e proporzionalmente. Noi abbiamo attivato questa convenzione con Telespazio che è un giacimento di competenza e di bravura e ci fa piacere che ci sia stata anche cordialità di corrispondenza. C'è cioè la comodità di averli nel suolo abruzzese con una storia di grande orgoglio e di grande dignità e noi stiamo raccogliendo l'opportunità di questa collaborazione. Chiederemo a Telespazio di aiutarci anche per quanto riguarda la verifica della staticità e della stabilità di tutto il costruito storico di Sulmona. Vediamo se è sostenibile sul piano finanziariamente e sul piano anche del diritto della procedura. I processi di restauro di una preziosissima tela recuperata nel Duomo dell'Aquila dopo il sisma protagonisti nell'Open Day dell'Accademia delle Belle Arti. Porta aperta l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila nell'ultimo dei suoi Open Day di quest'anno l'Istituto ha voluto mostrare agli studenti delle scuole superiori d'Abruzzo e più in generale ai cittadini i laboratori della scuola di restauro una delle cinque in Italia interna ad un'accademia. Abilitanti alla professione di restauratore un talento e una professione, sottolinea il direttore Marco Brandizzi che nella ricostruzione epossismica abruzzese ha un presente e un futuro assicurato. È un corso estremamente importante che permette agli studenti di poter fare la professione proprio del restauratore restauratore di beni vincolati dallo Stato quindi i ragazzi entrerebbero dopo la tesi in una lista privilegiata del Ministero dei Beni Culturali potranno restaurare beni di estrema importanza non a caso noi oggi accanto appunto alla presentazione all'Open Day, alla presentazione del corso di restauro presenteremo anche il restauro della tela del Duomo Con l'occasione dell'Open Day i visitatori hanno potuto seguire anche il cantiere di restauro della grande tela raffigurante la cupola del Duomo dell'Aquila la cattedrale dei Santi Massimo e Giorgio una preziosa testimonianza del patrimonio artistico della città opera del pittore Venanzio Mascitelli che nel 1828 ha realizzato una finta cupola dipinta Nella notte al terremoto del saprile 2009 la tela è precipitata sotto il crollo della volta sovrastante spaccandosi in vari pezzi ed è un oggetto di restauro e ricomposizione proprio nei laboratori didattici dell'Accademia Che inizieremo proprio, che abbiamo già iniziato in questi giorni, in questi mesi e che poi riconsegneremo alla città dell'Aquila alla tela del Duomo ancora da restaurare e noi lavoreremo proprio su questo settore La Regione Abruzzo pubblica i dati sul resoconto di screening effettuati sui piccoli alunni delle scuole materne sull'insorgenza dei disturbi dell'apprendimento Tre mesi di screening su un campione di bambini delle scuole materne d'Abruzzo per testare i disturbi dell'apprendimento nell'età evolutiva ed avere un quadro della situazione che possa venire incontro a genitori insegnanti Sono diverse le linee evolutive che possono essere colpite in particolare le difficoltà linguistiche che possono poi essere ulteriormente specificabili se sono difficoltà specifiche di linguaggio oppure di matrice di determinazione più culturale e ambientale difficoltà nel movimento o nello sviluppo delle competenze di passaggio ai prerequisiti ai sistemi di lettoscrittura e calcolo per la scuola primaria Un genitore cosa può fare per vedere e per cercare di capire se anche il proprio figlio ha qualche difficoltà di apprendimento? Il genitore dovrebbe dare uno sguardo alla totalità del bambino la prima considerazione da fare è che non deve solamente guardare all'intelligenza del bambino ma anche all'uso che quel bambino fa della sua intelligenza Alcune fragilità evolutive derivano non tanto dal quotiente intellettivo come noi psicologi solitamente intendiamo ma derivano dalla capacità del bambino di regolare le sue competenze rispetto alle proposte formative cioè di dedicarsi all'attività, al compito, di prestare attenzione alla lezione La Regione Bruzzo promuove anche l'intervento di attività di cancelling che prevede l'introduzione di figure specializzate nel trattamento dei disturbi dell'età evolutiva Lasciamo da sole nelle maestre, naturalmente nelle famiglie ma questo progetto è stato proprio fatto proprio per prendere in tempo le situazioni quindi dico alle famiglie di non spaventarsi perché questa insorgenza, questa scoperta precoce serve proprio per mettere in atto degli strumenti per correggere velocemente dei disturbi che possono essere corretti Apriamo ora la pagina dello sport in primo piano chiaramente i playoff di Serie B con il Trapani già qualificato alla finale ieri sera la vittoria della squadra di Cosmi per 2-0 sullo Spezia dopo aver già vinto la gara d'andata in terra Ligure Trapani che aspetta il verdetto della partita di questa sera tra Pescara e Novara si ripartirà dallo 0-2 per i biancazzurri di Massimo Oddo 0-2 maturato domenica scorsa al Piola questa sera il retour match all'Atletico Cornacchia per le ultimissime ci colleghiamo con Paolo Renzetti da Pescara Buonasera Paolo Grazie Andrea, buonasera dallo stadio adriatico Giovanni Cornacchia si vanno pian piano riempiendo gli spalchi dell'impianto di Via Pepe sono previsti questa sera circa 17 mila spettatori una settantina non di più i tifosi gli spettivi che arriveranno da Novara hai detto bene tu si riparte dallo 0-2 dell'andata con i gol di La Padula e Torreira e per quanto riguarda le formazioni non abbiamo ancora quelle ufficiali non è arrivata ancora la comunicazione da parte dell'ufficio stampa del Pescara andiamo con quelle che dovrebbero essere le formazioni presumibili previste con il Pescara 4-3-2-1 Fiorillo in porta Zampano, Campagnaro, Fornatiere e Crescenti dovrebbero essere i quattro di difesa a centro campo dovrebbe essere escluso almeno dall'inizio Torreira con Benali, Bruno e Berria a comporre il terzetto in mediana con Pasquato e Caprari sulla tre quarti e La Padula di punta per quanto riguarda il Novara 4-2-3-1 invece il modulo adottato dall'ex Marco Baroni con da costa in porta Dickman, Vicari, Mantovani e Dell'Orco in difesa questo dovrebbe potrebbe essere lo schieramento difensivo del Novara poi Casarini e Buzegoli i due metronomi di centro campo Gonzales, Lanzafame e Faragò sulla tre quarti con Galabino unica punta di ruolo il giocatore Burgoro dovrebbe essere preferito ad Evacuo che invece nella gara di andata aveva giocato dall'inizio dirigere all'incontro il signor Abisso di Palermo come detto sono previsti circa 17 mila spettatori nel Pescara non ci sarà ormai è questa notizia nota il capitano Memushai che è tornato in ritiro con l'Albania ci sarà però nell'eventuale finale di andata che si giocherebbe con il Trapani non per quella di ritorno ma questa sera sarà importante comunque arrivare in finale Pescara che parte dallo 0 a 2 che potrà anche permettersi il lusso di perdere con due gol di scarto per il momento è tutto dallo stadio adriatico di Pescara ricordo che nel Novara non ci saranno tre squalificato e Faraoni infortunato rientra dopo la squalifica Dickman è tutto da Pescara grazie Andrea grazie grazie a Paolo Renzetti appuntamento alle 20.10 circa per diretta stadio per seguire Pescara Novara la cronaca e poi le interviste una buona notizia che arriva dalla serie B e arriva per la Virtus Lanciano perché oggi era il giorno della discussione presso il collegio di garanzia del CONI del ricorso o meglio dei ricorsi della procura generale del CONI e della procura federale contro la Virtus Lanciano soprattutto contro quel verdetto della corte federale d'appello che aveva restituito tre punti alla squadra rossonera ebbene questi ricorsi come possiamo leggere sono stati ritenuti inammissibili dal collegio di garanzia del CONI questo vuol dire che la Virtus Lanciano giocherà regolarmente il play out contro la saernitana la classifica non viene toccata i punti restano quelli doveva esserci un eventuale meno tre per la Virtus Lanciano affinché potesse essere il Livorno a giocare contro la salernitana ma come detto i ricorsi sono stati giudicati inammissibili dal collegio di garanzia del CONI quindi la Virtus Lanciano sabato giocherà la gara d'andata al Biondi e poi mercoledì prossimo ci sarà la gara di ritorno alla Rechi di Salerno e ascoltiamo su questa marcia di avvicinamento proprio il tecnico della Virtus Lanciano Primo Maragliulo siamo sereni c'è questa secondo me questa grande fortuna di lavorare in un ambiente sano in un ambiente sereno abbiamo anche avuto questa settimana il supporto dei ragazzi dei tifosi che ci sono ci sono venuti a trovare ci hanno spronato chiaramente a dare il massimo questa non è una partita come tutte le altre sia noi che la salernitana abbiamo lo stesso obiettivo e ce lo giochiamo in due partite dentro fuori giocando la prima in casa e dovendo noi comunque vincere una delle partite mi auguro che chiaramente la squadra giochi in una certa maniera per ottenere questo risultato però non dobbiamo assolutamente dimenticarci che di fronte avremo una squadra guerrita che farà altrettanto per portare a casa nelle due partite la salvezza noi sappiamo che abbiamo tre squalificati al momento sperando chiaramente sapete che c'è anche il ricorso per quanto riguarda Ferrari vedremo che cosa succederà però in questo momento noi abbiamo tre squalificati dobbiamo fare di necessità virtù come ho detto chiaramente ci sono coloro che li sostituiranno che magari durante il campionato non hanno avuto grandissimo spazio e non vedono secondo me non vedono l'ora di scendere in campo Aquilanti recupera chiaramente Antonio ha ripreso a lavorare al 100% da ieri quindi oltre alla guarigione diciamo clinica del muscolo bisognerà valutarne la condizione fisica solamente questo in riferimento a quanto diceva il tecnico primo Maragliulo circa il ricorso che era stato fatto per l'attaccante Nicola Ferrari è stato respinto questo ricorso dunque confermate le due giornate di scuolifica inflitte dal giudice sportivo attraverso la prova tv quindi Ferrari salterà le due partite di play out contro la salernitana scendiamo ora in Lega Pro oggi è arrivata l'ufficialità ma insomma la notizia già c'era che Lamberto Zauli è il nuovo allenatore del Teramo Zauli che sarà presentato domani mattina in conferenza stampa alle ore 11 presso l'hotel Sporting di Teramo situazione opposta in casa all'Aquila dopo la retrocessione maturata con la sconfitta di Rimini da oggi c'è l'ufficialità della risoluzione del contratto risoluzione consensuale intanto con il tecnico Carlo Perrone con il suo vice Tommaso Grigli e poi con una serie di giocatori che sono Bigoni De Francesco De Sousa Di Mercurio Manuel Mancini Maccarrone Piva Scotti Triarico e Zandrini e nel prossimo servizio che in realtà è un estratto della trasmissione andata in onda ieri Pro L'Aquila condotta da Gianmarco Menga il vice presidente Mancini Massimo Mancini dell'Aquila Calcio spiega il perché delle sue dimissioni e commenta così la stagione dell'Aquila Calcio Io sono molto rammaricato sono dispiaciuto per questo insuccesso che ha fatto prima di tutto male a noi e ne ha fatto tanto le conseguenze sono ancora più dolorose e quindi è una situazione che mi ha messo in una condizione di rassegnare le dimissioni e comunque sempre rimanendo a fianco a Chiodi in questa sua avventura pensare che Chiodi possa essere sostituito io adesso che sono diciamo mi sono dimesso però posso dire le cose come stanno trovare un imprenditore che come Chiodi riesca a catalizzare e a portare dentro l'Aquila Calcio altri imprenditori credo sia impossibile lui è l'unico e l'unico capace e questi anni l'ha dimostrato di tenere insieme una compagine di imprenditori individualisti ma lui è in questo è un leader e ha fatto fino adesso il bene per l'Aquila io mi sono reso conto che è difficile gestire 24 teste e questo più che un allenatore ci vorrebbe uno psicologo in campo e quello che è mancato a questa squadra non è stato tanto è stato è mancato il carattere è probabilmente il leader della squadra e questo è stato il difetto di questa squadra non so se è colpa del mister non so se è colpa del direttore sportivo certo che noi quando chiedevamo su informazioni sui calciatori mi dicevamo questo gioca perché si è allenato bene questo non gioca perché non si è allenato questo ha un dolore alla caviglia a quest'altro quindi non è che possiamo intervenire su queste cose è tutto per questa seconda edizione del TG6 vi aspettiamo questa sera intorno alle 20.10 per Diretta Stagio per seguire insieme la semifinale di ritorno di Serie B semifinale playoff tra Pescara e Novara grazie per l'attenzione e buona serata grazie per la visione